Successo dorato per il Campobasso di Bagatti che liquida l'Avezzano grazie ad un guizzo del solito Musetti a metà secondo tempo. Ad una prima frazione sostanzialmente equilibrata segue una ripresa nella quale i Rosso Blu provano a costruire qualcosa di più rispetto ad un avversario davvero troppo timido. La vittoria, la seconda consecutiva, è assolutamente meritata. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori infreddoliti. Dirige il signor Virgilio di Trapani. Poco prima del decimo, cross dalla destra al centro contrasto fra Lobello e Deramo. Il trapanese signor Virgilio lascia correre mentre la punta ospite chiede il calcio di rigore. Il Campobasso ottiene il baricentro alto all'undicesimo Giacobbe. Defilato calcio in porta ma Fanti protegge come si deve. Replica Avezzanese al tredicesimo con una conclusione angolata che Sposito para ma non blocca. Al diciannovesimo punizione di Danucci stacca Marchetti, para l'estremo abruzzese Fanti. La gara vede due formazioni affrontarsi senza troppi tatticismi. Al ventunesimo l'appoggio di Padovani a Besana vede una conclusione non troppo pulita con il giocatore abruzzese che scivola pure. Bagatti conferma le tre punte Giacobbe, Alessandro e Musetti. Manca Merio nella lista dei convocati. Esordio per la barba a sinistra in difesa. Ritmi godibili con le prime occasioni che giungono poco dopo la metà del tempo. Trentaquattresimo gran giocata di Grazioso in verticale. Palla buona per Deramo che cerca di evitare Sposito ma poi perde il possesso della sfera. Protesta anche per un presunto tocco di mani del portiere di casa fuori dall'area di rigore. Si può giocare con il campo basso che ribalta velocemente il fronte e Alessandro a ritagliarsi uno spazio interessante in area. Salvo sbagliare il vantaggio davanti al portiere abruzzese. Al riposo senza minuti di recupero e con uno 0-0 giusto. L'inizio della ripresa si presta a ritmi molto bassi. Occasioni da rete neanche a parlarne. Bagatti effettua i primi cambi all'altezza del quarto d'ora. Dentro Cogliati e Antonelli al posto di Giacobbe e Di Paolo. Secondo tempo molto piatto. Al ventesimo Alessandro effettua un tiro a dir poco telefonato per Fanti. Al ventitresimo è Cogliati a cercare di svegliare i presenti con un mancino deviato in calcio d'angolo da Di Gianfelice. Dalla bandierina batte Danucci in area. L'ultimo tocco quello vincente di Musetti che segna con una grande puntualità. sbloccata l'inerzia di una gara priva di emozioni ma soprattutto scongelati i padroni di casa dal punto di vista mentale. L'Avezzano protesterà a fine gara per una presunta uscita del pallone dal campo manovrato da Lobello prima del passaggio all'indirizzo di Cogliati. I rosso-blu provano adesso a chiudere Conte al 31esimo diagonale di Alessandro che guarda da vicino il palo della porta abruzzese. Un minuto più tardi spinta in area di Di Gianfelice su Cogliati. L'arbitro dice al rosso-blu. Di rialzarsi al più presto. Mister Giampaolo prova a cambiare qualcosa con gli ingressi di Dosa e Cirilov al posto di Conti e Grazioso. Nonostante gli avvicendamenti l'Avezzano non fa mai lavorare sposito. Bagatti rinuncia ad Alessandro dal 43esimo per far entrare Minchillo. Al 44esimo Avezzano pericoloso arriva un lancio verso l'area rosso-blu. È Lobello che offre l'assistin volontario a Besana che cicca completamente l'intervento. Sul tiro poi di Dosa c'è il muro di La Barba. Al 92esimo grossa chance per Musetti che ha il tempo e spazio in area di rigore ma si vede negare il raddoppio da Fanti. Ancora occasione per il rosso-blu. Su è il 95esimo quando Cogliati è scatenato in area di rigore e nessuno è in grado di fermarlo. Salvo poi un salvataggio sulla linea di porta da parte di Tariuc. Poco dopo la gara terminerà con la seconda vittoria consecutiva del Campobasso che tra l'altro torna a vincere fra le mura amiche. Non succedeva dallo scorso mese di settembre ed era la seconda giornata di campionato. Gian Paolo dell'Avezzano attende 5 o 6 rinforzi per ripartire. Bagatti si gode il suo decimo punto da allenatore del Campobasso e aspetta qualche altra pedina prima della fine del mercato invernale. Ma è stata una bella partita voglio dire. Sapevamo della forza del Campobasso, sapevamo dei giocatori importanti che la società sta acquistando. Per cui abbiamo impostato la partita con grande attenzione cercando di tamponare il loro gioco e di ripartire in contropiede. Siamo una squadra in completa evoluzione, abbiamo bisogno di giocatori importanti di categoria. Però i ragazzi, perché sono molti ragazzi, si sono comportati bene, hanno giocato al massimo, nelle proprie possibilità, anzi forse anche un po' di più. Peccato per quel gol, secondo me, che c'è stata una palla che è andata fuori, che il segnalino non ha visto. Prima del tiro di Cogliati, dice lei? Esatto, sì. Lì poi è scaturito il gol sul calcio piazzato, un ennesimo calcio piazzato, calcio d'angolo, che ci siamo persi l'uomo e hanno fatto gol. Però, ripeto, non posso rimproverare niente ai ragazzi perché hanno dato l'anima. È normale che sono ragazzi che devono ancora capire come è il campione di Serie B. Abbiamo solo due o tre elementi, diciamo così, di esperienza, ma per cercare di salvare la categoria c'è bisogno di giocatori importanti che possano appunto darci una mano. Tanto faccio i complimenti all'Avezzano perché ha fatto un primo tempo di grande intensità e ci ha messo in difficoltà, proprio alzando il ritmo. Era abbastanza prevedibile che non potevano ottenere quel ritmo per tutta la partita, infatti nel secondo tempo siamo venuti fuori e penso che abbiamo meritato la vittoria. Musetti implacabile? Musetti è un giocatore importante che sta retro piano piano, sta trovando la condizione, consideriamo che era sei mesi che non giocava prima di venire qui a Campobasso. Secondo me più si va avanti più sarà determinante.